Diga di Campotosto, osservata speciale, ma al momento non esistono delle criticità, anche se la situazione è monitorata sempre. È quanto emerge dall'incontro di ieri pomeriggio al Ministero dei Trasporti a Roma, incontro convocato dal Ministro Graziano Del Rio con i vertici della protezione civile, con le regioni e con i gestori delle grandi dighe che sono localizzate nelle zone sismiche. L'incontro ha consentito di fare un punto della situazione rispetto ai controlli e alle misure adottate dopo le scosse sismiche del 24 agosto e 30 ottobre 2016 e rispetto alla più recente del 18 gennaio. E gli antigestori, in particolare Enel, per quanto riguarda le dighe di Campotosto, hanno confermato che non sono state evidenziate criticità, sia nei controlli ordinari, sia in quelli scattati, come la procedura, dopo i terremoti recenti. La riunione è stata presieduta dal Ministro Graziano Del Rio con Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile, Gabriele Scarascia Mugnozza, Vicepresidente della Commissione Grandi Rischi. Campotosto è un impianto importante. La diga, già dopo il sisma del 2009, era stata oggetto di valutazioni. Esiste una procedura che, dopo ogni sisma, richiede controlli e questo è avvenuto ogni volta. L'allarme generato da alcune dichiarazioni del Presidente della Commissione Grandi Rischi si ricordano che il problema esiste e che si deve continuare a tenere sotto osservazione questa criticità. Queste, invece, sono dichiarazioni del Direttore dell'Ufficio Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Titti Postiglioni, che si trova alla Dicoma Carrieti. In linea teorica, se si dovesse svuotare velocemente, questo comporta effetti importanti, ma è uno scenario di riferimento e, come ha detto la Commissione, non si tratta di un allarme immediato. Enel ha inteso procedere con un ulteriore svuotamento dell'invaso nell'ambito di questo contesto emergenziale, ha detto la Postiglione. Anche all'Aquila oggi si è parlato della diga di Campotosto, osservata speciale in una riunione tecnica, convocata negli uffici del Ministero all'Aquila.